e la ventaglia oh, perché poi non siedi ieri sera da casting è andata avanti un'ora, quello è un ricochet, lo riconosco aveva sbagliato tutto siamo in fronte a Andrea, bella qui mi indicherò un figlio di ricochet, guardale un mare al babbo una macchina Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.